Penso che in termini di occasioni abbiamo creato nettamente di più. Il primo tempo penso sia stato di ottima fattura perché siamo stati continui nel gioco, abbiamo creato veramente tantissimo. L'unico rimpianto è non averla chiusa nel primo tempo perché l'1-0 penso ci stesse molto stretto. Eravamo in controllo totale della partita e riuscivamo ad essere pericolosi con grande continuità. Detto questo abbiamo commesso degli errori nel secondo tempo e poi l'episodio ci può stare. Questo è il calcio. Purtroppo gli episodi a volte ti girano a favore, delle volte ti girano contro. Oggi loro sono stati bravi a rimanere sempre in partita perché hanno saputo soffrire, specialmente a rimanere dentro la partita quando sembrava che ci fosse solamente il Terramon Camp. Quindi loro hanno avuto questa capacità qua e poi hanno sfruttato le occasioni che gli si sono riproposte davanti. Sono due gol sui quali noi sicuramente potevamo fare di più come potevamo fare nettamente meglio in tutte le occasioni che abbiamo creato ma non siamo stati bravi a finalizzare.